Pescara nel primo tempo vi ha messo in grossa difficoltà, però che bella Tina nell'ultimo quarto d'ora, troppo tardi? No, nel primo tempo il Pescara ha capito la partita che doveva fare. Sappiamo di affrontare una squadra forte e si è vista tutta oggi qui a Latina. Peccato che nel primo tempo abbiamo trovato tante difficoltà e abbiamo avuto quei cinque minuti di follia dove ci sono costati due gol. Nel secondo tempo abbiamo cercato in tutti i modi di venire fuori, nonostante l'inferito numerica siamo riusciti ad accorciare, però poi alla fine non siamo riusciti nell'intento di pareggiarla. Merito il Pescara che ci ha creduto e ha meritato alla fine questa partita. Qual è stata la chiave di questo primo tempo superiore del Pescara? Pescara ci ha messo più fame, è stato più aggressivo sulle seconde palle e più cinico di noi. È stato bravo, altronde Pescara è una delle cinque squadre che deve vincere il campionato, una delle cinque squadre favorite per la vittoria finale e oggi si è visto. Chiedo un'ultima cosa a Didonato, nel primo tempo avete cercato, avete provato a mettere in difficoltà soprattutto Cancellotti a destra andando a raddoppiare con i quinti. Mi è riuscito poco questo piano? No, siamo partiti abbastanza bene e poi abbiamo subito la fuga del Pescara. Il Pescara è stato bravo a sfruttare le occasioni, è stato bravo nelle seconde palle e lì è vinto la partita. Poi ti ripeto, nel secondo tempo abbiamo cercato di rimediare ma non ci siamo riusciti.